Alessio Sabia, vittoria importante perché non è mai stata scontata, però alla fine si portano a casa due punti. Sì, è stata una partita molto difficile, non eravamo al 100%, c'erano alcuni giocatori non proprio al 100%, però loro, nonostante una classifica deficitaria, sono un'ottima squadra e penso che con l'andare del tempo possono fare molto bene e l'hanno dimostrato qua, stanno sempre in partita, non reggendo sempre. Noi però abbiamo fatto la nostra partita offensiva, abbiamo menciato difensivamente così e così, ma insomma alla fine, grazie anche a un grande pubblico, siamo riusciti a portare a casa una partita importante. Abbiamo visto più volte in campo, anche nelle prime partite di campionato, in campo sia te sia Gianluca Prosec, quindi un doppio centro, ma c'è molta affinità, vi trovate molto bene? Sì, devo dire che mi ci trovo davvero molto bene perché è anche un ottimo passatore e occupiamo tanto spazio, abbiamo visto stasera i rimbalzi d'attacco, sono stati un punto importante per noi e difensivamente riusciamo comunque, nonostante due corpi importanti, Gianluca ha un'ottima mobilità per la lunghezza, riusciamo comunque a stare in campo bene e penso sia un'arma che in futuro dovremo sfruttare. Subito in campo sta tre giorni, un campo non semplice contro una squadra informissima, la più in forma del campionato, come si prepara una partita del genere? Beh, sicuramente ora dobbiamo riprenderci un po' da questa partita che ha elevato tante energie, poi però già da domattina bisogna iniziare a pensare a questa partita molto importante e sicuramente sono una squadra giovane che correranno tanto, però anche noi piace correre, quindi andremo lì, abbiamo tutto per poter fare un'ottima partita e poi vediamo cosa portiamo a casa. Grazie e complimenti. Grazie.